Il nuovo volto dell'impianto. Accordo comune pubblica assistenza contro il disagio sociale, l'emergenza caldo a sostegno degli anziani. Dal prossimo anno il PIN ospiterà un master internazionale in paesaggi agrari. Buongiorno e ben ritrovati a questa edizione diurna del nostro telegiornale. In attesa degli sviluppi sulla cessione della Ciprato, finalmente sono stati completati lavori allo stadio Lungo Bisenzio. Vediamo in anteprima come appare adesso l'impianto sportivo di via Firenze. Dario Zona. Un anno dopo l'avvio dei lavori, le traversie giudiziarie e il sequestro del cantiere volge a conclusione il restyling dello stadio Lungo Bisenzio. Un'opera su cui il comune ha investito circa 600 mila euro per adeguare l'impianto alle normative di sicurezza, ottenere legibilità e rendere più fruibili gli spazi. 2.966 posti e la capienza complessiva del nuovo stadio Lungo Bisenzio, circa 500 in più rispetto a due anni fa, l'ultima stagione disputata dal Prato tra le Muramiche, prima della trasferta forzata causa lavori a Pontedera. È stato un investimento importante, è stato un investimento ovviamente che mette le basi per un eventuale progetto, nel senso che questi sono i minimi requisiti necessari. Cioè questo stadio è stato completamente rivoltato, distrutto e ricostruito. Nel caso in cui ci fosse un progetto sportivo molto ambizioso, lo Stato è pronto per affrontare anche delle modifiche e un aumento di capienza che potrebbe garantire anche un'eventuale Serie B. Il rettangolo di gioco è stato smantellato, traslato di 17 metri più a ridosso della tribuna centrale, grazie all'eliminazione della pista di atletica e rizzollato. La tribuna degli ospiti da 614 posti è stata spostata sul lato opposto, quello del TC Etruria, mentre la curva degli ultraspratesi, la cui capienza è di 1.803 posti, è posizionata più vicina al campo. I lavori hanno riguardato anche le panchine, che adesso assomigliano a quelle di Serie A, panchine lunghe da 18 sedute con la cosiddetta buca posizionate al di sotto del terreno di gioco. Potenziata anche la videosorveglianza con oltre 25 telecamere, ma un palo davanti alla tribuna centrale ostruisce in parte la visibilità. Cambieranno anche gli accessi allo stadio Lungo Bisenzio e su Portes Biancazzurri entreranno da qui, accanto alla stazione centrale, mentre i tifosi ospiti accederanno da Via Firenze, dal lato della Tennis Club Etruria. Sul fronte del passaggio di proprietà si attende la scadenza del 23 di luglio, il termine entro il quale l'imprenditore canadese Joseph Romano dovrà presentare il pagamento della prima tranche concordata con Paolo Toccafondi. In questo momento credo ci siano tutte le condizioni per arrivare alla chiusura. Ci sono dei tasselli che non dipendono né da noi, né dagli eventuali acquirenti, né dalla società, ma da un ripescaggio, quindi in Serie C, che dipendono dalla federazione. Noi crediamo che sia stato fatto tutto il possibile per garantire alla nostra città un futuro sportivo, un futuro sportivo in un contesto calcistico come quello di quest'estate molto complicato. Ci sono città storiche che stanno perdendo la categoria, qui a Prato resistiamo, e questo potrebbe essere davvero l'inizio di un'era differente, di un'era che può portare Prato ad avere quei successi che merita anche in ambito sportivo. In vista della nuova stagione sportiva, l'amministrazione comunale sta pensando ad un omaggio allo storico magazziniere del Prato, Beppe Medico, recentemente scomparso. Senza dubbio, questo è quello che con il sindaco ci stiamo lavorando per garantire a una figura così importante il giusto riconoscimento. Chi ama il Prato, chi vuole bene al Prato, probabilmente siamo rimasti pochi, ma dentro secondo me c'è quella scintilla, queste novità, quelle scintille possono far riportare allo stadio tanta gente. E Beppe era una di queste anime. Il lungo Bisenzio potrebbe diventare la casa della Florenzia, squadra di calcio femminile. Se ne è discusso questa mattina nel corso di un incontro in Palazzo Comunale tra il sindaco Matteo Biffoni e i vertici della società. Intanto lunedì prossimo scade il preliminare di acquisto dell'AC Prato da parte dell'italo-canadese romano. Calcio maschile e calcio femminile insieme, a lungo Bisenzio. Nuovo incontro questa mattina tra l'imprenditore pratese Tommaso Becagli, presidente della squadra Florenzia di calcio femminile, e il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Le parti si sono confrontate per esplorare l'ipotesi di utilizzo del lungo Bisenzio da parte della squadra di calcio femminile che parteciperà al prossimo campionato di Serie A. Un incontro che lascia presagire ad un contatto futuro con il presidente in pectore del Prato, Joseph Romano, per un'eventuale sinergia tra le due società. Insomma, il lungo Bisenzio dalla prossima stagione potrebbe essere impegnato tutti i weekend, ospitando le partite interne della Florenzia. Pare sia al vaglio anche l'ipotesi di cambiare denominazione sociale in Prato. Nel massimo campionato nazionale femminile e ovviamente quelli del Prato calcio nel campionato di Serie C. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi sulla vicenda, che sulla carta appare già delineata. Intanto il presidente del Prato, Paolo Toccafondi, resta in attesa di chiudere la partita per la cessione della società bianco-azzurra con Joseph Romano. Il 23 luglio scade il termine ultimo per il pagamento della prima tranche stabilita nel preliminare vincolante di vendita per sancire la chiusura della prima parte della trattativa. Sempre aperta l'operazione legata al ripescaggio in Serie C, per la quale Romano e il proprio Entourage stanno lavorando per riuscire a presentare quanto richiesto dalla Lega entro la prossima settimana. Intanto è sempre presente in città il nuovo direttore generale in pectore, Marcos Antoni Seriù, che ha incontrato il responsabile del settore giovanile Matteo Silvestri, al quale ha illustrato il progetto di rilancio della società bianco-azzurra, che avrà proprio nel settore giovanile un punto fondamentale. Insomma il nuovo Prato canadese è pronto a rilanciare proprio sulla cantera, con prospettive anche di potenziamento dell'impiantistica. Il progetto della costruzione di un centro sportivo per le squadre del settore giovanile tornerà presto ad essere centrale. Più tutele per i soggetti vulnerabili, a cominciare da anziani e disabili. Lo prevede il protocollo d'intesa firmato questa mattina in Comune, che mette in campo anche una serie di servizi e iniziative per contrastare l'emergenza caldo. Comune di Prato e pubblica assistenza all'avvenire insieme per favorire l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, anziani e disabili, e contrastare l'emergenza caldo in questa estate. E' quanto prevede il protocollo sottoscritto in Palazzo Comunale per contrastare l'emarginazione sociale attraverso una serie di servizi che andranno a ampliare la rete già presente in città. Le attività verranno organizzate all'interno dell'ex asilo Nido Santa Lucia, in Via Bologna, immobile di proprietà del Comune che di recente è stato affidato attraverso un bando alla pubblica assistenza. Dell'accordo fa parte anche il progetto Prevenzione delle ondate di calore rivolto ad anziani e soggetti a rischio attivo durante l'estate. Il progetto prevede l'organizzazione di una serie di attività di socializzazione che si terranno fino al 31 agosto presso la sede centrale della pubblica assistenza all'avvenire in Via San Jacopo e alla Biblioteca Lazzarini, in attesa che entri in funzione il centro di Via Bologna. Un modo per coinvolgere anziani e soggetti a rischio che così verranno accolti all'interno di ambienti climatizzati, evitando loro di restare al caldo con tutte le complicazioni che ne possono conseguire. Rischi a ondate di calore. Il Comune di Vaiano si mobilita per prevenire con una serie di consigli i possibili rischi. L'amministrazione comunale, spiega l'assessore Marco Marchi, sta provvedendo ad affiggere il Vademecum 2018 nei bar e negli uffici pubblici per informare quanti più cittadini possibile su comportamenti corretti e prevenzione di ogni rischio, mantenendo alta l'attenzione soprattutto nei confronti di chi può trovarsi maggiormente in difficoltà con il caldo. Il testo del Vademecum è stato messo a punto sulla base delle indicazioni dei medici e degli esperti. Chiude in passivo il bilancio del PIN, ma nel 2019 l'Università Pratese ospiterà un Master internazionale in paesaggi agricoli che richiamerà in città 18 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Se ne è discusso nel corso di una seduta congiunta delle commissioni 2 e 5. Chiude con un passivo di quasi 170 mila euro il bilancio 2017 del PIN, che fa segnare un risultato negativo per il secondo anno di fila. Un contenzioso legale perso con l'Inps e crediti vantati nei confronti di imprese non riscossi sono le principali cause del disavanzo, oltre alle mancate entrate derivanti dalla parte pubblica. Dal 2015 il PIN non può più contare sui 45 mila euro che la provincia garantiva ogni anno e anche la Fondazione Cassa di Risparmi ha diminuito il proprio contributo. Resta invece forte il sostegno del Comune che si aggira sui 300 mila euro. Gli ultimi due anni sono stati due anni che hanno visto eventi straordinari per la nostra gestione e che quindi ci hanno penalizzato al di là invece della qualità e dei contenuti delle attività che abbiamo svolto che invece sono in crescita. Quindi scontiamo delle situazioni straordinarie che però speriamo non si ripetano nel futuro e siamo già abbastanza tranquilli per il 2018. La ricerca resta un fiore all'occhiello capace di generare un fatturato di 4 milioni e di sviluppare 138 progetti. Nel 2017 anche l'alta formazione ha ripreso vigore formando 430 persone. Nonostante il passivo l'offerta didattica è rimasta mutata così come è stabile il numero degli iscritti che si attesta sui mille studenti. La mancanza cronica di uno studentato resta un problema stringente ma nonostante questo nel 2019 il PIN ospiterà un master internazionale in paesaggi agrari che richiamerà a Prato 18 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Nel 2019 da gennaio partirà la prima edizione di tre edizioni di un master internazionale in paesaggio agrario. È un master che verrà finanziato dal nostro Ministero degli Esteri ma su diretta richiesta della FAO. Quindi avrà l'unica sede al mondo qui a Prato, è un master organizzato dall'Università di Firenze, Facoltà di Agraria, ma avrà una sede a Prato. Ci saranno 18 ragazzi che verranno da tutto il mondo a studiare queste tematiche che ospiteremo in città e che quindi garantiremo ai prossimi tre anni, 2019, 20 e 21. I carabinieri hanno tratto in arresto per evasione due persone che avrebbero dovuto trovarsi ai domiciliari. Il primo provvedimento è stato eseguito a carico di un ventenne italiano, residente a Pistoia, pregiudicato, che è stato sorpreso a Prato in piazza Europa. Dagli accertamenti è emerso che nei confronti del ventenne era stato emesso anche un foglio di via obbligatorio da Prato per la durata di tre anni. Ieri sera invece i carabinieri, impegnati in un servizio in occasione della manifestazione Montemurlo sotto le stelle, sono intervenuti in via Indipendenza dove era stata segnalata una rissa. Giunti sul posto hanno identificato e tratto in arresto un trentenne cittadino albanese, pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio, residente a Montemurlo dove era già sottoposto ai domiciliari. Entrambi gli arrestati sono stati condotti al carcere di Prato. Al via la realizzazione del primo centro Expo Comuni Toscani dove troverà spazio anche la galleria degli stemmi di tutti i municipi della nostra regione. Vediamo. Con la posa simbolica del primo mattone in alcuni locali che fanno parte del complesso del Palazzo del Pegaso nel centro storico di Firenze, il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Gianni, ha dato il via alla realizzazione del primo centro Expo Comuni Toscani. Un nuovo polo espositivo che sarà intitolato all'ex presidente della Repubblica italiana, Carlo Azzelio Ciampi. Oggi iniziano i lavori di ristrutturazione che consentiranno con scadenza 30 novembre, ovvero la festa della Toscana, di poter godere di uno spazio che sarà il più ampio all'interno del Consiglio regionale per poter vivere mostre e esposizioni relative ai comuni della Toscana, che dopo magari aver fatto una mostra sulla loro storia o sulla biografia di un grande personaggio o sull'enogastronomia in quel territorio, potranno quella mostra riprodurla in Consiglio regionale, in modo da dare al Consiglio regionale il carattere di vetrina di quello che è la promozione e la valorizzazione dei comuni della Toscana. Nel centro Expo troverà posto anche la galleria degli stemmi di tutti i comuni toscani, come al Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero, la principale patrona della Toscana. Siamo giunti al momento delle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Un saluto a tutti, vediamo le immagini da satellite, alta pressione, interessa il Mediterraneo centrale, alta pressione che garantirà per la giornata di oggi e anche quella di domani, condizioni di tempo stabile e soleggiato. Ecco la previsione per il pomeriggio di oggi, cielo prevalentemente sereno, qualche nuvola in Appennino, per quanto riguarda i venti, questi saranno da ovest, saranno localmente moderati, in particolare sul Val d'Arno e localmente sulla costa centro-settentronale, temperature pressoché stazionali. Uno sguardo a quello che ci attende domani, qualche nuvola tra la notte e la mattina sulla costa centro-settentronale sul Val d'Arno, si tratterà di innocue, nubi basse che poi tenderanno a dissolversi. Nel pomeriggio prevalenti condizioni cielo sereno, con qualche nuvola ancora una volta in Appennino. Venti ancora deboli, generalmente occidentali, temperature pressoché stazionario o il lieve aumento nei valori minimi. Bene, è tutto, vi ringrazio l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornale. Il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione è per questa sera alle 20.30. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.